Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello la verità dietro la scelta. Il Grande Fratello si prepara a dire addio a uno dei suoi volti più amati e riconosciuti degli ultimi anni. La decisione è ormai ufficiale e la notizia ha scosso i fan del celebre reality show. Recentemente, si è molto discusso della nuova edizione del programma, con dettagli che spaziano dalla data di inizio ai nomi dei concorrenti, alcuni dei quali sono già stati confermati. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, il programma andrà in onda in diretta su canale 5 due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, con il debutto previsto per il 16 settembre. I telespettatori dovranno attendere poco più di due mesi per vedere di nuovo i geffini nella casa più famosa d'Italia. Nel frattempo, sui social, il Grande Fratello ha lanciato un invito accattivante, potresti essere tu il prossimo concorrente. Siamo noi a bussare alla tua porta ma sei tu che potresti varcare quella rossa. Vai subito su grandefratello.endemolcine e iscriviti ai casting. Grande Fratello ti aspetta. Questa edizione si preannuncia particolarmente interessante, con un mix di volti noti e nuove sorprese. Tra i nomi caldi c'è Victor Quadrelli, famoso imitatore che ha partecipato a Italia S. Got Talent e che spera di portare il suo talento nella casa del GF. Tuttavia, una delle assenze più sentite sarà quella di Giulia Salemi. Amedeo Venza ha rivelato che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli era molto vicina a un ritorno, ma la scelta finale è ricaduta su Rebecca Staffelli, figlia del noto reporter di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Sembra che Mediaset abbia deciso di puntare nuovamente su Rebecca Staffelli per il ruolo che era stato precedentemente di Giulia Salemi. Venza ha commentato, lo sapevate che Giulia Salemi era nuovamente in lizza per ritornare al Grande Fratello nel suo ruolo, ma hanno scelto nuovamente Rebecca Staffelli? Peccato, sarebbe stato bello rivederla nel ruolo che le calzava a pennello. Mentre il pubblico si prepara per una nuova stagione ricca di sorprese e colpi di scena, la notizia dell'addio di una figura tanto amata lascia un vuoto che sarà difficile da colmare. Il Grande Fratello continua ad evolversi, promettendo sempre nuove emozioni e storie avvincenti.